musica ciao ciao ragazzi da TheFaceGame qui non so perchè c'è un tipo che sta parlando a un centimetro dal cellulare quindi non lo so perchè noi parliamo con il cellulare con l'iphone 4s ragazzi nuova top 10 kill signore che ha una top 5 face ecco perchè abbiamo failato sicuramente qualcuno lo scriverà sui commenti a numero 5 c'è l'uomo immortale c'è Chuck Norris ma che è ancora vivo? si aspetta adesso lo uccida quello che mi fa sorridere è la perseveranza di questo tipo a sparare continua a sparargli mentre si aspetta la testa per dire sui 15 cosa vuoi? sono fatto d'acciaio vedi? allora io sono Iron Man finisce tutti i colpi non basta non basta prende la pistola finisce tutti i colpi avrà lo sacallo avrà a recuperare i colpi per andare lì ma tu se trovi uno così cosa fai continuare a sparargli? come no? io li metto una boss in betti davanti ma tanto non muore non puoi neanche trollarlo è contro troller questo contro trollerllando è tipo il retweet di twitter adesso prende le cap 40 doppia che sono potentissime grazie per averci spiegato che le pistole fanno male però in colpi sono si no it's not over cioè ma che cazzo adesso no nei commenti dite ma se voi trovate uno così ma anche voi continuate a sparargli ah io non so non si arrende hanno perso la partita per colpa sua? si se lui andava a fare uccisioni vincevano? magari forse anche vincevano è una tattica al numero 4 c'è un fail dell'agr ragazzi guardate ma cosa sta succedendo? è il michael jackson abbiamo visto l'archie xd che è diventato un dragonfire oh mio dio come si chiama sta roba? un agr l'agr che si trasforma in un cosa non so è impazzito gli scleri ragazzi ha un po' di problemi questo agr ma io non capisco se quello che lo sta usando vede il no pensi che non vede un cacchio e sto sperando a caso cioè non vede niente però bene lascia stava vomitando sulla tastiera è l'agr di Cassina fai i carpiati ci troviamo in disco al numero 3 c'è crygenico88 ragazzi tira il carpacca aspetta ma lì non c'è un nemico? si si ma guarda lui non si ne sbatta il cazzo ho da notare come ha scritto lo zero Taylor il piccolino cry zero ma scusa ma ha due nemici o sono due amici? sono un amico e un nemico adesso il nemico non so se avete visto il pacco colpo di testa colpo di testa al pacco mamma mia ma secondo me ha un po' di emicrania emicrania ma ha più il cranio è diverso è bello che lui se ne sbatte voglio solo capire dove è andato finito il pacco tipo non ha emicrania lui non ha più il cranio ripetiamolo da un altro visuale guardate mi ha fatto troppo ridere sta clip magari c'era uno sciame dentro quel pacco adesso ti inculi adesso sicuramente gli fa marco ti inculi anche tu numero 2 al numero 2 c'è the source of war ragazzi tira la granata cross the map tra virgolette muore e si rigenera sulla sua granata ragazzi no ma che razza di sfigato ecco le due fasi questa è una sfiga allucinante si veramente guarda cioè veramente assurdo mi dispiace al numero 1 c'è ragazzi la morte più veloce mai esistita ragazzi si rigenera e muore ma in quanto tempo scusa? in 0,3 seconda ragazzi ma col tomo qui inoltre si è arrivato un tomo a cross oh veramente c'è sto qui magari pensa alla sua prima partita oh che bello la prima partita che bello che bello ecco vedi contro il dlc ecco vediamo vediamo la visuale del bastardo ma il problema è entrato in game dopo quindi c'è si guarda connesso connesso a morto cioè proprio una roba hai ucciso freddy 20 poveraccia la bonus la bonus arriva tutti lì gli utili del tunnel ma cosa succede? arriva il pacco bastardo tutti 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 e quattro il pacco bastardo non è rimasto una F con la collaborazione della prof è fantastico forse l'hanno anche trollata hanno trollato la prova ragazzi se il video non vi è piaciuto cliccate su mi piace continuate a iscrivervi al nostro canale le copie sono messe giuste esatto e ma adesso le metteremo nel posto sbagliato allora visitate facegames.eu che è il nostro social network aspetta potete trovare Tebu e Taylor e anche Rinnegan no io non ci sono andate a robergli le palle ciao a tutti al prossimo video ciao